fu in una delle prime interviste con Fazio che tu chiudessi queste interviste facendo queste citazioni di Salim e senti nella tua poi formazione di scrittura tu hai iniziato come giornalista qui a Napoli il giorno di Salvatore sulla Camorra anche i funerali di Annalisa Durante però c'è un'altra storia non so se è vera le prime cose che hai scritto le hai mandate a Fofi vero e lui ti ha dato un grande consiglio vero ero ragazzino ho mandato dei racconti a Fofi ma poi avevo 19 anni ero ispirato a Landolfi bravissimo, ero ispirato a Tommaso Landolfi addirittura una cazzata assoluta io scrivevo questo racconto dove sostanzialmente andavo in paradiso e al posto del Padre Eterno trovavo Tommaso Landolfi scrittore che aveva amato moltissimo si offenderebbe moltissimo lui ma possiamo definirlo velocemente barocco è una lingua ricercatissima detestava tutto ciò che fosse realtà si teneva lontanissimo dal realismo una lingua rara meravigliosa secondo me una delle migliori lingue mai prodotte in Italia anche perché accessibili spesso Manganelli o Pizzuto che è uno scrittore particolarissimo avevano una lingua inaccessibile cercavano sempre vocaboli desueti ormai archiviati persino da edizionari perché pensavano ma ci sono gli scrittori che lo pensano tutt'ora ed è interessante è legittimo diverso da la mia scelta pensavano che quei vocaboli quel frasare quel ritmo così insolito così aulico così particolare conservasse un'originalità che ormai la lingua troppo commerciata proprio nel senso venduta sporcava allora quando mando questo articolo questo racconto non è un articolo a Fofi era tutto di imitazione la scrittura di Landolfi e Fofi mi scrive a macchina ho avuto la lettera fino a quando non si è aperta in quattro parti e che la tenevo conservata nel portatoglio mi risponde più o meno subito stranissimo e scrive caro Roberto ho ricevuto il tuo racconto l'ho letto è una incredibile cazzata ma secondo me sai scrivere cosa mi in orgoglio molto ho visto da dove mi stai mandando la lettera apri la finestra raccontami quello che vedi e mandamelo io lo feci lui non mi rispose più però da lì ci fu un passo davvero interessante fondamentale per me io avevo anche un po' di fastidio per quella realtà che mi sembrava del tutto non letteraria la letteratura mi serviva per capire quella realtà ma soprattutto per evadere quindi in quella fase sto parlando proprio di quei due anni lì tutta quella tutta la letteratura che mi nutriva era una letteratura che andava ad allontanarmi da quelle dinamiche mentre la saggistica che leggevo molto di più della letteratura la saggistica mi serviva più a capire in quel mondo lì quella frase di Fofi in quella lettera mi fece unire diciamo gli interessi e quindi probabilmente è vero che cambiò qualcosa perché tu vivevi ai quartieri spagnoli sì sì è stato proprio per scuola scura quindi lui ti diceva di descrivere quella realtà e invece in Mondadori hai avuto a che fare con Editor che ha un rapporto un po' più combattuto invece che quelli con Laura moltissimo in realtà io in Mondadori arrivo passato da tantissimi Editor perché arriva il libro io lo consegno completato anche questo è interessante al di là delle leggende che circolano appena i libri hanno successo sempre ti dicono che te l'ha scritto qualcuno che fa molto ridere nel mio caso perché più o meno se leggi le pagine ti possono fare schifo ovviamente ma a quel punto ti fai scritto anche come parlo e come mi esprimo perché abbiamo una continuità tra veramente la mia scrittura e il mio modo di raccontare a teatro insomma con la mia voce stessi vocaboli stessi giurisitassi proprio identico quindi fa veramente ridere questa cosa che pure si è detta perché il libro arriva nelle mani di Elena Janczek che mi becca editor all'epoca tra l'altro però consulente sugli stranieri che mi becca in Nazione Indiana un blog su cui scrivevo letterario scriviamo tanti Carlo Benedetti iniziano Scarpa Aldonove Montanari Amaniti tantissimi da Nazione Indiana quindi Elena lo porta in Mondadori rimbalza da Brugnatelli a Franchimi e poi arriva chi dà il sì e il sostegno a tutto è Gian Arturo Ferrari all'epoca capo della Mondadori insieme a Massimo Turchetta credono nel libro ma prima di arrivare a loro che erano i vertici passa ad Antonio Riccardi il quale non è convinto dei frammenti personali cioè lui a un certo punto mi propone un'ipotesi cioè dice togliamo tutto ciò che è personale in Gomorra la teniamo dentro solo la parte saggistica io dico no no e poi mi chiedono anche quanto è forte questo no cioè no ci proviamo no se facciamo così te ne vai e io dico sì sì se facciamo così me ne vado tant'è vero che penso mi ricordo che all'epoca avevo preso contatto con un sacco di editori che avevano visto i miei racconti e fu un anno particolarissimo per quei siti perché a me arrivarono prima di scrivere il libro proposte da tutti gli editori Rizzoli mi contattò Fazzi Minimum Fax Donzelli adesso sicuramente Einaudi c'è un ragazzo che stava alla saggistica sì insomma quindi più o meno tutti tranne forse Adelphi più o meno tutti quando ti vedevano o piaceva un racconto che postavi su questo sito pensate dove viaggiavano tutti gli editor d'Italia cioè ti arriva una proposta e io lì quindi a un certo punto ebbi la forza di dire no se si cambia questo cioè se si vuole far diventare il libro soltanto un saggio io mi tiro dietro e addirittura mi è fatta poi subito dopo un'altra proposta interessante avere la mia foto la mia faccia in copertina perché perché insomma la faccia assomigliava a quello che raccontavo questo è anche interessante ricordo la battuta che mi fece se arrivi il volto di Harry Potter non ti metteranno proprio la fotografia e uno non ci pensa ma all'epoca io neanche lontanamente e invece il libro è tutt'uno col tuo corpo con la tua fisicità con il tuo modo di essere non è così per tutti per molti scrittori uno dei miei più grandi maestri che studio continuamente che è Emile Zola Zola detestava parlare il pubblico aveva molta difficoltà molta timidezza e quando fu costretto dopo il Giacchius a un processo che tra l'altro lo condannò i presenti negli astanti rimasero completamente delusi dal suo non eloquio il gigantesco scrittore del Giacchius lo scrittore Germinal non aveva la stessa vehemenza nelle parole pronunciate ebbene oggi nel mondo dove libro autore promozione sono un'unica strategia è un'unica storia e oggi farebbe la differenza questo ci sono autori per esempio anche quando andavano da Fabio ci sono autori che addirittura fermavano la vendita del libro quando parlavano perché deludevano